Ancora Bucche Cuscita in cassa della Pistoiese che, lavorando sotto traccia, sta allestendo il nuovo organico per il prossimo campionato di Serie C. Dopo l'annuncio e la presentazione di Niccolò Frustalupi come nuovo allenatore e la riconferma di Capitan Francesco Valiani, i dirigenti arancioni, con in testa il direttore sportivo Giovanni Dolci, stanno operando sul mercato con calma, cercando di sbagliare il meno possibile. Nell'anno del centenario che cade nel 2021, infatti, il presidente Orazio Ferrari e i suoi collaboratori vorrebbero regalare diverse soddisfazioni ai propri sostenitori. Ecco perché i movimenti, almeno quelli in superficie, sembrano più lenti del solito. Se non ci saranno sorprese, si ripartirà dai giocatori sotto contratto che sono, oltre a Valiani, Camilleri, Tempesti, Cerretelli, Lamas e Spinozzi. L'intento è quello di trattenere altre pedine importanti della scorsa stagione, come D'Ametto, il portiere Pisseri e l'attaccante Gucci, tutti e tre per ora liberi da impegni. Sistemato lo zoccolo duro, si passerà ai nuovi inserimenti. Per quanto riguarda le scadenze, c'è da dire che già lunedì prossimo la Pistoiese effettuerà un pre-raduno, ovviamente a ranghi estremamente ridotti, un gruppo che verrà ampliato in pratica quotidianamente, così da averlo al completo almeno all'inizio del prossimo mese. Anche perché la data dello start del campionato, fissata per il 27 settembre, è solo apparentemente lontana. Va ricordato che in questa edizione non verrà disputata la Coppa Italia. La Lega Pro, infatti, ha deciso di sospendere la manifestazione per non intasare ulteriormente un calendario che prevederà comunque diversi turni infrasettimanali. Insomma, io voglio sperare che si riesca in qualche modo... Grazie. Grazie. Grazie.